Allora, Germanone, prego, sganci la bomba. Allora, vi do un'anticipazione, tra l'altro le do due. Allora, prima tu hai parlato, hai citato uno che diceva, anche la tua famiglia, io sono in contatto diretto con il fratello migliore. Greve. Che è stato tirato in ballo diverse volte, lui mi ha contattato mesi fa, per la parte della Vegan Industry, dove lo stesso Matteo Saba disse a mio fratello mi ha fatto un favore, ma in realtà non gli ha fatto nessun favore, il fratello ci ha solo rimesso soldi e salute, l'ho anche denunciato, per ora non posso dirvi. Il fratello ha denunciato Matteo? Il fratello di chi, scusate? Il fratello di Matteo Saba ha denunciato Matteo Saba. Ha denunciato il suo stesso fratello maggiore. Gravissimo. Questa è una cosa che posso dire qua, mi ha autorizzato lui a dire, poi nei dettagli ci andremo magari con una live che faremo insieme, quando sarà il momento, quando saremo il momento. Quando vuole venire, assolutamente. Eh sì, pure perché, minchia, è top. Dar e Lucas King che cosa hanno da dire a questo punto? Lo stesso, guarda, c'è anche Patrizio in chat che sta in live, sta in chat, però vedi Patrizio? Parla col fratello, che ti devo dire? Patrizio, se neanche questo mi basta. Secondo me il fratello deve tornare all'asilo, l'8 gennaio c'ha serie di problemi. Lui magari dirà che anche il fratello è un pazzo. Sì. Ah sì, tutta l'esercito di pazzi, l'unico sano è per bene, lui, del resto non abbiamo portato testimonianze in controvertimento da quest'uomo, quindi ci sta, dargli credibilità e pensare che sia in buona fede. Il fratello con quel progetto ha passato soltanto guai, ha buttato tanto soldi, ripeto, lo ha denunciato, quindi questo lo posso dire oggi, ma ti ha detto il perché, cioè ti ha detto che puoi dire anche il perché o no? No, il perché lo so, lo conosco, ma non lo posso. Ah ok, però mi sono perso il passaggio. Stiamo aspettando, sì sì. Però sappiate che è così, e lui ci tiene, mi ha pregato di rispondere questo messaggio, a non... che la famiglia non sia mai più messa, diciamo, in confronto con Sabato. Non mi viene... Si vuole dissociare. Esatto, totalmente dissociare. Vi prego, non tirateci in mezzo, perché noi con Matteo Sabato non abbiamo più alcun rapporto. Zanni. Zanni. E non vogliamo averne, quindi... Ma infatti... Vedi, qua ritorna pure quella frase che lui dice sempre, no? Ti schifa pure la tua famiglia. Ti schifa pure la tua famiglia, ti schifa di quanto fai schifo. Spesso lo dice sta cosa, eh? È sempre in proiezione, è sempre in proiezione. Quando dici anche i tuoi uccidori sono delusi da te, ti schifo. Ti parla sempre di se stesso, quest'uomo. Quindi, al di là di questo, insomma, dei giudizi, loro ci tengono solo a restare fuori da questa vicenda, che gli ha già procurato molta sofferenza e molti problemi e molti pensieri. Qualcuno scriveva l'altra volta in preda, e devo dire, nei gruppi io l'ho anche cazziato e si è scusato, rendono sicuro, eh, chiamiamo noi, anche noi, il padre, la madre. Ragazzi, queste robe non hanno alcun senso. Perché i genitori di un uomo di 40 anni, che fa quel... Ma cosa c'è? Ma quelli già saranno disperati. Sa soffrono. Esatto, esatto, esatto. Bravo, immaginate una madre che ha già come soffre. Quindi, dimentichiamoci. È per fargli gli auguri che vanno chiamati, proprio.